Buongiorno, martedì 16 di gennaio 2024, l'Eterno ti benedica, pace del Signore, buona giornata e che tanta benedizione possa scendere sulla tua vita e sull'intera tua famiglia. Gloria a Dio. Prima di ascoltare la parola di Dio questa mattina voglio ricordarti una cosa. Voglio ricordarti che già da un po' di tempo a questa parte in questo canale abbiamo istituito un gruppo di preghiera. Sono delle sorelle che ogni giorno si impegnano a pregare per noi ovviamente che facciamo le dirette, che pratichiamo la parola, per tutti coloro che siamo impegnati in questo canale ma in modo particolare voglio ricordarti che queste sorelle pregano per tutte le richieste che ci arrivano attraverso questo canale, attraverso i commenti, attraverso i messaggi. Noi abbiamo fatto così, abbiamo creato un gruppo whatsapp dove abbiamo inserito queste sorelle e il loro gruppo quello e quando tu o qualcuno mi scrive fratella Andrea ti chiedo di pregare per mia mamma, ha una malattia, si chiama Anna Rita, puoi metterla nelle richieste di preghiera? Io prendo questa richiesta, la giro nel gruppo whatsapp alle sorelle e attraverso, vabbè col computer, un file word, un file di scrittura e lì tutte le richieste vengono aggiunte e le sorelle ogni giorno pregano su tutta la lista di preghiera, quindi ci sono richieste di preghiera addirittura che risalgono a due o tre mesi fa, sappi questo, che ogni giorno loro intercedono per tutte queste richieste, quindi se hai delle richieste di preghiera, per appunto, non esitare a domandare, a chiedere perché noi vogliamo impegnarci a pregare per te o per quelle richieste che tu ci menzionerai, ma non solo questo, se hai bisogno o se qualcuno ha bisogno di parlare, di avere un consiglio, ha un problema, qualsiasi problema esso sia, sappi che c'è un numero di telefono alla quale tu puoi chiamare e noi siamo a disposizione, quindi se vuoi ovviamente devi essere tu a chiederlo, basta che scrivi nei commenti o mandi un messaggio e dice ho bisogno di parlare, ho bisogno di questo numero di telefono e ti verrà dato e poi ci sentiremo, il più delle volte sono io stesso che me ne occupo di rispondere al telefono, quindi sappi che c'è anche questa cosa. Detto ciò, ora vogliamo ascoltare la parola di Dio che questa mattina dice proprio così. La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Testo che puoi trovare nel Vancello di Marco, capitolo 1, versetto 35. Ed ancora un altro verso. O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo. Salmo numero 5, versetto 3. Il titolo di questa meditazione biblica è questo. Cominciare bene la giornata. Consideriamo, leggendo i Vangeli, le giornate di Gesù così piene. A volte la folla che lo circondava era così numerosa che era difficile avvicinarsi persino a lui. Ma il primo versetto di oggi ci dice che Gesù iniziava la sua giornata da solo e in preghiera. Prima di scegliere i suoi apostoli, trascorsa addirittura tutta una notte in preghiera. Il re Davide scrive, O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce. Appena si alzava, si rivolgeva al Signore per parlargli. Si rivolgeva a Dio, non all'uomo. Davide continua, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo. All'inizio della sua giornata si preparava diligentemente con la preghiera, poi aspettava un atteggiamento di fiducia. Come iniziamo la nostra giornata? Prendendo le cose come vengono? Senza esserci preparate? Senza averne parlato a Dio? No! Facciamo prima ascoltare a Dio la nostra voce tramite la preghiera. Spieghiamogli i nostri bisogni e affidiamogli le nostre decisioni da prendere. Allora, come Davide, potremmo aspettare con fede e affrontare la giornata ben attrezzati, fiduciosi nelle cure del Signore. All'inizio della mia vita professionale c'era un'impresa molto attiva di fronte al mio ufficio che consegnava pezzi di ricambio. Sopra l'ingresso c'era questo motto, il 95% del successo dipende dalla preparazione. E ho fatto mio questo motto durante i miei anni di lavoro. Ma questo è importante soprattutto nella nostra vita di fede. Iniziamo ogni giornata con un momento di comunione personale con il Signore, ascoltando la sua parola e pregando. Questo potremmo dire che, come dice un detto, a mattinata fa a giornata. Che significa? Significa che la mattinata fa la giornata. Se parti bene la mattina, la giornata scorre in una maniera particolare, bella. E la stessa cosa è se noi la mattina ci alziamo e partiamo nel modo corretto, senza premura, senza agitazione, senza stress, ma se riuscissimo a trovare anche solamente dieci minuti, non è che serve tre ore, dieci minuti dove ci possiamo inginocchiare prima di uscire di casa. Ci inginocchiamo, ci mettiamo in preghiera, presentiamo la nostra vita al Signore, magari leggiamo uno, due, tre versetti della parola di Dio e poi possiamo partire. Potremmo dire così, parafrasando, abbiamo fatto la miglior colazione del mondo, la più nutriente colazione dell'universo, perché attraverso questa colazione il nostro spirito si rallegrerà, la giornata partirà in un modo straordinario, avendo pregato, avendo avuto fiducia che il Signore sta ascoltando e ascoltando poi la sua voce attraverso la sua parola. È come se avessimo messo il turbo nella nostra vita. Quindi ti voglio incoraggiare, fratello, sorella, io lo faccio ogni mattina, raramente, raramente capitano quelle giornate dove non riesco a trovare del tempo per pregare, raramente, ma ogni giorno, come ho detto già anche altre volte, mi alzo un po' prima, perché io i video che tu guardi, io li registro il pomeriggio, però poi li lavoro la mattina prima di andare al lavoro. Quindi monto questi video, lavoro al computer e poi mi metto in ginocchio, prego il Signore, chiedo consiglio a Dio, leggo un versetto. Quello che io ti sto consigliando di fare, guarda che lo faccio ogni giorno, altrimenti sarei un ipocrita, sarei solamente un buon relatore, ma così non è per i pastori, così non è per gli insegnanti della parola di Dio, non è così per coloro che predicano l'Evangelo, perché l'Evangelo prima di predicarlo agli altri lo dobbiamo vivere, altrimenti che ci dobbiamo predicare i chiacchiere e che dobbiamo fare i relatori, già ce ne sono tante persone che parlano, parlano, parlano. Noi siamo quelli che mettiamo in pratica la scrittura e con le nostre difficoltà, con i nostri limiti, con i nostri peccati, con le nostre mancanze abbiamo questa fiducia, che il sangue di Gesù ci purifica e quindi abbiamo questa fiducia che andiamo avanti per la grazia di Dio. Va bene, ti saluto con la pace del Signore e ci vediamo domani al solito appuntamento. Pace di Gesù. Grazie a tutti.